Una scarica di massi al centro della tragedia consumatasi poco dopo mezzogiorno sulle montagne della Valfurva in Alta Valtellina. Le rocce staccatesi improvvisamente hanno colpito due componenti di una comitiva composta da tre turisti impegnati nell'ascesa della parete sud del Monte Gavia. A perdere la vita Marcello Rosa, 51enne di Castagnato nel Bresciano, investito dai massi senza scampo, ferito l'amico al suo fianco, un compaesano di 41 anni trasportato all'ospedale Morelli di Sondalo con vari traumi e affidato alle cure dei medici. Illesa invece la donna in loro compagnia, una 39enne di Bergamo, che per pochi metri ha evitato l'impatto con il materiale roccioso sceso a valle in pochi secondi. Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino e gli esperti di montagna del SAGF della Guardia di Finanza di Bormio, ora impegnati nel fare piena luce sulla dinamica dell'incidente. La salma del 51enne, dopo l'autorizzazione del magistrato di turno, è stata ricomposta presso la camera mortuaria di Bormio, a disposizione dell'autorità giudiziaria.